Si è svolto nei giorni scorsi in Piazza del Popolo a Monterosso Calabro in provincia di Vibo Valencia la manifestazione Il Costume di Monterosso Calabro, organizzato dall'Associazione Famiglia de Rubro Monte in collaborazione con Comune Proloco. L'evento culturale è stato incentrato sugli studi sui costumi tradizionali calabresi ed in particolare sulla storia dell'abito tradizionale monterossino. Nel corso della manifestazione l'orafo Gerardo Sacco ha presentato il gioiello da lui creato e raffigurante il costume tradizionale di Monterosso Calabro. Sono intervenuti Eugenio Farina, Monsignor Giuseppe Fiorillo, Gilberto Floriani, Lionella Morano Liotti ed Antonio Parisi su costumi, culture e tradizioni calabresi e le memorie dei viaggiatori stranieri. Presente anche il sindaco di Monterosso Antonio Lampasi. La serata ha avuto come protagonista assoluto il costume delle donne, austero ed affascinante ad un tempo, l'iniziativa ha inteso sottolineare il significato altamente culturale attribuito al costume delle anziane donne monterossine, anche affinché le nuove generazioni studino e conoscano consapevolmente la storia del proprio paese. L'evento si inserisce nell'ambito delle celebrazioni dei dieci anni della fondazione dell'Associazione Socioculturale Famiglia del Rubro Monte. La manifestazione si concluderà sera del 6 agosto con un concerto di tango che si terrà in piazzetta Arnoldo Farina.